Bentornati, allora ho chiamato questo video Operetta Piccola Lirica a chi? Per testimoniare da un lato il mio vecchio e fervente amore per questo genere teatrale e un po' perché quando noi ci riferiamo a una qualunque cosa, situazione, persona, oggetto, animali, città dicendo che questa cosa è un'altra cosa in diminuzio è ovvio che fatalmente non facciamo un favore a questa cosa che stiamo definendo perché fatalmente la mettiamo su un piano più basso questa è il vorrei ma non posso, è una roba che assomiglia a quella là però un po' meno ecco e questa secondo me è la cosa più sbagliata che possiamo fare non solo nei confronti dell'Operetta ripeto che io amo particolarmente ma in generale nei confronti di qualunque definizione noi diamo ecco perché oggi ho deciso di raccontarvi che cos'è l'Operetta, quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono e raccontarvi alcuni dati storici e statistici che credo non vi lasceranno indifferenti allora per raccontarvi questa storia partiamo da una foto, questo signore lo vedete è Ruggero Leoncavallo conosciuto in tutto il mondo come grande compositore di opera lirica in particolare insomma universalmente noto per la sua opera Pagliacci e magari un giorno potremmo raccontare di come ricordi non credette nella bontà di quest'opera e rifiutò di pubblicarla rinunciando a una quantità di soldi che avrebbe generato pazzesca quindi dicevo Leoncavallo è famoso ovviamente come compositore di opere liriche pochi sanno che è composto anche delle operette, non basta, non è solo questo Leoncavallo è il più importante compositore di opere liriche che si è dedicato all'operetta più importante almeno dal punto di vista quantitativo ne ha composto ben nove tra cui la più importante è la Reginetta delle Rose vado a memoria e potrei sbagliarmi del 1912 seconda foto che vediamo oggi Michele Caraffa compositore che io tra l'altro incidentalmente ho incontrato in tempi abbastanza recenti perché ho pubblicato una sua opera allora qui abbiamo fatto un salto di cento anni prima di Leoncavallo è il 1801, Caraffa scrive e porta in scena un'opera che si chiama Il Fantasma ed è la prima volta che la critica definisce un'opera operetta vedremo tra poco cosa questa cosa comporterà la terza fotografia che vediamo è questa qua e rappresenta Carlo Lombardo il vero deus ex machina dell'operetta in Italia compositore, librettista, impresario, editore insomma e chi più ne ha più ne mette veramente la figura più importante dell'operetta in Italia è quella che ha portato questo genere al massimo splendore prima di passare a spiegarvi la definizione di operetta e perché ritengo proprio che non vada confuso in alcuna maniera con l'opera lirica vi do questo dato indicativamente allo più o meno dal 1860 al 1960 in questi cento anni sono state composte una stima prudente parla di 4.000 operette probabilmente sono molte di più diversi studiosi dicono 5.000, 8.000 addirittura c'è chi si spinge fino a 20.000 forse questa stima è un po' generosa e anche un po' rischiosa dal punto di vista storico ma 4.000 vi assicuro che è una stima assolutamente realistica quindi voi capite che anche dal punto di vista meramente quantitativo e musicologico c'è una quantità di composizioni da conoscere, da analizzare sterminata il problema qual è? che noi non abbiamo una data di inizio dell'operetta anche se ai francesi piace dire che l'ha inventata Offenbach che è un punto di vista di origine tedesca ma questo non ha importanza in realtà non c'è un vero e proprio inizio non c'è stata una persona che abbia detto ragazzi ho inventato questo genere nuovo si chiama operetta il problema sulla definizione stessa di che cosa sia l'operetta ha comportato che per diversi anni si sia barcamenati attraverso diverse definizioni vi basta sapere che ancora nel 1863 un dizionario francese confondeva il concetto di operetta col concetto di operina l'operina sarebbe quella che Mozart diceva che è un bravo compositore capace di scriverne un paio dopo mangiato cioè un pastiche o un adattamento di temi o di altre opere che si fanno così in 4 e 4-8 e decisamente senza un particolare rilievo artistico ecco tenete presente che quando questo dizionario francese nel 1863 ancora non aveva chiaro il diritto se questa fosse l'operetta Offenbach aveva già scritto dell'operette già dal 1856 quindi allora fondamentalmente vediamo l'operetta come un genere teatrale leggero, di argomento leggero quindi al contrario dell'opera non muore nessuno sapete che nell'opera almeno un morto da contratto ci deve essere meglio se muore di morte violenta o per una drammatica malattia nell'operetta questa cosa non c'è quindi c'è sempre un litofine l'argomento è leggero e alterna il canto con il parlato quindi alcune parti sono cantate con aria, duetti, tri, concertati eccetera eccetera e altre parti invece dell'operetta sono parlate non diversamente dalla prosa allora è evidente che non possiamo evitare un certo paragone con l'opera buffa pensiamo solo a quello che hanno fatto Donizetti e Rossini l'opera buffa in realtà non c'è il parlato non c'è il recitato ma c'è il recitativo quindi questa sorta di declamato accompagnato dal clavicembalo che appunto si frappone fra i vari numeri musicali lo stesso Donizetti ha scritto delle opere mi viene in mente la lettera anonima che non prevede i recitativi ma proprio dei recitati e quindi in questo senso i due generi potrebbero essere drammaticamente simili nell'operetta però c'è al di là di vari caratteri nazionali che in alcuni stati hanno avuto un particolare focus su determinati argomenti o su determinati aspetti della società nell'operetta c'è un'importante presenza della danza quindi ci sono balletti ci sono coreografie che hanno quasi sempre a che fare non come capita magari nell'opera in cui ci si possa essere della danza col passato ma in genere l'operetta ha sempre un occhio particolare al presente ovviamente al presente di quando è stata fatta l'operetta evidentemente e quindi buona parte delle danze che ci sono nell'operetta sono riferiti al momento in cui l'operetta è stata rappresentata e quindi se negli anni venti c'era il Foxtrot, il Two-Step, il Charleston e così via ciò non toglie ovviamente che in altro tipo di operetta in particolare quella viennese ci sia un ampio uso del waltzer però perché così è talmente radicato con la cultura e con le abitudini musicali dell'Austria che insomma diventava una componente fondamentale stessa cosa anche nell'operetta francese però pensiamo solo al famosissimo Can Can è uno dei pezzi più famosi che conosciate è entrato in un'operetta da Orfiolo Inferno di Offenbach quindi capite comunque la difficoltà di un genere in cui il performer diciamo così deve sapere recitare, cantare e ballare in questo senso è un antesignano del musical e in questo senso la figura del basso buffo che era così stabilmente presente nella storia dell'opera buffa si trasforma nella figura del comico che quindi più che un cantante che recita è più un attore che canta quindi questa cosa cosa ha comportato che poi negli anni stante questa situazione la parte vocale proprio del canto del comico diventava sempre più semplice proprio perché spesso e mentira erano più degli attori che cantavano che non dei cantanti che recitavano e quindi questa cosa poi ha comportato nel tempo un abbassamento del livello tecnico necessario per poter affrontare questo repertorio e questa ovviamente non è stata una cosa positiva evidentemente perché poi questo abbassamento ha portato anche a un abbassamento della musica che accompagnava queste aree diciamo ci sono cinque paesi che pretendono che reclamano di avere la patronità dell'operetta cioè l'Italia, la Francia, la Germania, l'Austria e l'Ungheria tutti questi cinque paesi hanno delle ottime ragioni per avanzare questa pretesa ma in realtà nessuno di questi cinque ha veramente ragione c'è da dire che in diversi casi i massimi esponenti dell'operetta erano come dire a metà tra uno stato e un altro vi ho già detto di Offenbach che era francese ma in realtà era di origine tedesca quindi era tedesco naturalizzato francese ma pensiamo a Franz von Suppé uno dei massimi esponenti dell'operetta austriaca una delle più famose è Cavalleria Leggera che avete sicuramente ascoltato tante volte il concetto di Capodanno che stiamo ascoltando adesso in sottofondo quanta sburgità c'è in questo brano diciamo che la sburgità precipita dal momento in cui io vi dico che Franz von Suppé si chiamava in realtà Francesco Ezechiele Ermenegildo de Suppé de Melli era italiano era un lontano parente di Donizetti tra l'altro che si era trasferito in Austria quando aveva 16 anni tra l'altro senza parlare una parola di tedesco e poi in realtà insomma fu in Austria che fece la sua carriera per cui vi rendete conto che quando due dei più importanti compositori di operetta cioè Offenbach e Suppé hanno come dire una nazionalità così a metà beh capite ovviamente che è difficile dare una paternità nazionale a un singolo stato dopodiché ogni stato ha sviluppato delle caratteristiche peculiari che magari distinguono l'operetta che si fa in Italia da quella che si faceva in Francia adesso oggi non voglio andare troppo per lungo e magari potremmo pensare a un secondo video vi ho già fatto ascoltare due brani famosissimi di operetta appunto il Can Can e Cavalleria Leggera ora vi faccio ascoltare un altro pezzo allora questo brano probabilmente se lo facciamo ascoltare a un ragazzo non l'ho mai neanche sentito ma chi ha dai 50 anni in su sa benissimo che cos'è questo brano e soprattutto a quale periodo storico si si relaziona ora prima che possa essere sospettato di essere uno nostalgico di quando i treni arrivavano in orario vi dico che questo brano non c'entra niente con il fascismo e non c'entra niente per due ragioni in primis perché è stato composto nel 1909 quando il fascismo non era neanche un pensiero di là da venire e poi fu utilizzato in un'operetta del suo autore Giuseppe Blanc nell'operetta La festa dei fiori del 1913 solo in seguito verrà ripreso da alcuni gruppi gruppi militari verrà cambiato il testo e solo successivamente verrà adottato dal fascismo come uno del insomma degli inni degli inni del regime ma in realtà non ha niente a che vedere col fascismo anche Mascagni che tutto il mondo conosce per Cavaliere Rusticana ha scritto dell'operetta ne ha scritte due nella fattispecie una che si chiamava Il Re a Napoli che è andata perduta e la seconda La Sì e non Il Sì come alcune persone dicono La Sì che tra l'altro un ottimo lavoro di ottima fattura e che è una di quelli di quei rari casi di operetta con un finale che non è come dire che non è drammatico come un'opera però non è neanche esattamente un finale completamente completamente a lieto fine tutti conoscono Tito Schippa e lo conoscono come uno dei più grandi tenori che ci sia stato probabilmente nella storia pochi sanno che era anche un compositore e ancora meno persone sanno che scrisse anche un'operetta che si chiamava La Principessa Aliana e che abbia anche una certa diffusione Tempo fa ho fatto un video sulla Rondie di Puccini che è l'unico esperimento che farà Puccini legato all'operetta a meno di quelli che conosciamo poi vi racconto perché in realtà poi la Rondie resterà un'opera un po' ibrida non più opera e non ancora operetta Carlo Lombardo fu talmente forte dal punto di vista proprio manageriale dal punto di vista proprio economico che riuscirà a convincere Puccini a musicare un'operetta poi la cosa non andrà in porto semplicemente perché Puccini passerà miglior vita purtroppo per lui e quindi questo progetto non verrà mai non verrà mai realizzato quindi negli anni che vanno quindi dalla fine dell'ottocento almeno agli anni 40-50 del secolo scorso l'operetta ha una diffusione enorme fa macina numeri impensabili numeri pazzeschi i grandi impresari come Carlo Lombardo hanno molte compagnie di operetta contemporaneamente che che si muovono perennemente in tour e che fanno dalle 200 alle 240 recite all'anno 200-240 recite all'anno più di una un giorno sì un giorno no ok diciamo 4-5 recite alla settimana per capire di cosa stiamo parlando e moltiplicato per tante per tante compagnie nell'operetta generalmente ci sono 4 personaggi un tenore una soprano una subret e un comico in realtà le vere star di questo genere soprattutto in Italia diventano non il tenore e la soprano che sono generalmente tenori e soprani leggeri in genere ma sono la subret e il comico e la subret che mediamente è una donna anche molto avvenente segue un po' lo stesso destino di cui ho parlato prima riguardo al comico cioè dire la sua parte col tempo diventa sempre più una parte per un'attrice che canta che non per una cantante che recita e quindi questa cosa ripeto anche in questo caso porta a una involuzione dei brani che vengono scritti per questa per questa coppia la cosiddetta coppia comica e che poi nel tempo appunto abbasseranno il livello artistico fatalmente di queste brani perché non mi piace paragonare l'operetta all'opera e perché non amo la definizione di piccola lirica in primis perché sono veramente in realtà due generi separati cugini ecco forse in qualche senso sicuramente cugini ma distinti l'operetta ha avuto come detto prima una fase durata parecchi decenni di successo enorme poi i gusti del pubblico sono cambiati il fatto stesso di relegare certi tipi di 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 danza a un qualcosa che era di moda quando l'operetta è uscita ma magari 10 o 20 o 30 anni dopo non era più di moda anche questo non ha non ha contribuito poi ovviamente c'è stata l'arrivo della televisione poi c'è stato come dire anche un po' di snobismo da parte degli ambienti accademici che hanno sempre visto l'operetta come una forma un po' leggera un po' sciocchina anche possiamo possiamo dire di teatro musicale quindi non abbastanza degna di di attenzione anche le parti dei comici sono diventate problematiche perché ovviamente si riferivano a un umorismo che magari poteva essere apprezzato negli anni 20 o 30 del secolo scorso e che magari cent'anni dopo non troviamo più non troviamo più altrettanto divertente poi aggiungete il fatto che ci sono pochissime riprese audio video dell'operetta soprattutto nel periodo nel periodo della sua massima della sua massima del suo massimo splendore e questa cosa ovviamente questa fatta non ha tramandato tramandato ai posteri un sacco di materiale in certi casi è nato perduto insomma in certi casi ci si riduce sempre a fare più o meno gli stessi titoli quando in realtà c'è un patrimonio musicale che andrebbe decisamente riscoperto e voi potreste dirmi sì ma neanche l'opera aveva aveva l'audio e il video negli anni 20 e 30 e poi comunque l'opera è rimasta fino al giorno d'oggi sicuramente però a parte che noi mediamente abbiamo sempre più amato il drammatico del comico mediamente noi forse non sono in Italia a dirla a dirla tutta c'è però una differenza non da poco che l'opera ancora oggi accede al FUS cioè ai fondi ai fondi ministeriali e questa cosa ovviamente fa entrare nelle casse dei teatri d'opera delle cifre importanti di denari senza i quali probabilmente un teatro d'opera non potrebbe non potrebbe sopravvivere perché sicuramente con i biglietti teatro d'opera ci paga ci paga siano la luce ci sono le sponsorizzazioni private eccetera eccetera ma insomma pochissimi teatri potrebbero sopravvivere senza il contributo il contributo statale contributo statale che non si applica all'operetta e quindi questa cosa significa che tutte le operette che vedete ancora oggi in giro sono fatte da compagnie private quindi salvo rari casi come erano state le bellissime trasposizioni che aveva fatto Maurizio Nichetti nel paese di Campanelli di Cincillà al teatro lirico di Trieste quindi all'interno di un ente lirico due produzioni splendide veramente meravigliose e allora insomma lì vedere l'operetta fatta in quella maniera quindi con i soldi che servono per una messa in scena importante con la grande orchestra che dovrebbe che dovrebbe esserci perché tutte le operette sono scritte per orchestra sinfonica per grande orchestra sono quattro tromboni e due percussionisti per capirci e invece quando la vediamo ovviamente non essendoci finanziamenti pubblici e quindi la possibilità di di rappresentarla con l'organico che avrebbe avrebbe in teoria e poi viene fatta sempre con organici più ridotti e col pianoforte che che copre i buchi diciamo così e d'altronde uno spettacolo che ha una grande orchestra corpo di ballo cantanti coro costumi cambi di scene insomma voi capite che è uno spettacolo molto molto costoso poi forse l'operetta più famosa resterà la vedova lega di Lehar che per certi versi è diventato un po' la summa è diventato un po' il paradigma di un certo tipo di operetta soprattutto afferente al mondo austro-ungarico però il fatto che la vedova lega venga eseguita in teatri grossi quindi con grossi budget è chiaro che poi la fa apprezzare cioè come dire ti piace vincere facile vi assicuro che ci sono tantissime altre operette che se fossero eseguite nella con quella stessa forma con quello stesso sforzo produttivo sarebbero oltremodo apprezzate dal pubblico perché sono veramente molto molto belle per cui quando mi chiedono ma l'operetta ha un futuro mi piacerebbe pensare di sì ma la verità è che non ho una risposta cioè detto in altri termini è presumibile che nel 2000 si faccia un genere di spettacolo molto costoso che generalmente piace a un pubblico molto anziano ed è difficilmente ed è difficilmente vendibile diciamo così a un pubblico più giovane non lo so sicuramente l'operazione che aveva fatto Nicchetti una quindicina di anni fa sarebbe la strada giusta era stato veramente bravo perché aveva trasformato questi due operetti in due favole fondamentalmente molto belle molto godibili e come dire e questa cosa sopperiva anche in certi casi a certe leggerezze o certe mancanze del libretto per cui sopravviverà l'operetta io ovviamente me lo auguro sulla condizione però che la si metta in mano a un regista capace di attualizzarla senza snaturarla e che venga fatta con uno sforzo produttivo anche di teatri pubblici adeguato a quello che quel genere richiede e se volete dei consigli per l'acquisto oltre a vedova legra andatevi a ascoltare sicuramente la belle land di hoffenbach andatevi a ascoltare sicuramente cavalleria leggera di suppe in italia andatevi a ascoltare sicuramente si di mascagni paese dei campanelli e cincilla di lombardo ranzato tutte quelle di mario pasquale costa che è un autore che io amo tantissimo e su cui farò anche un video un video apposta e poi vi consiglio sicuramente la duchessa del baltabaren e la danza di libellule iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un like e scrivetemi nei commenti se avete visto dell'operetta e che cosa ne pensate ci vediamo al prossimo video